Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 a finale 18 segnala la chiusura per lavori del tratto compreso tra B1 Variante e tra Aglio e Rioveggio. Sempre in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Canenzano e B1 Variante e coda in uscita a Firenze e Scandicci nelle due provenienze. In A11 i rallentamenti verso Firenze tra Pistoia e B1 con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. Il cipirico di attratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze e Scandicci in carreggiata opposta a coda per lavori tra Firenze e Firenze e Scandicci. E prima di salutarci per il traffico ferroviario per danni dovuti al maltempo la circolazione dei treni da Marradi a Faenza sulla Faentina è sospesa fino al 28 settembre. Muoversi in Toscana Infia un servizio in collaborazione con la regione toscana, città meroportana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.